Innanzitutto volevo portare il saluto della Marina e del Capo di Stato Maggiore della Marina che non è potuto intervenire oggi, la Milaglio Credendino. Oggi, come è noto, si celebra Santa Barbara e quindi unisco nostra patrona. In questo siamo in compagnia perché anche i Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco Artificieri e altre figure artiglieri celebrano la Santa Barbara come patrona e quindi oggi è un giorno per noi di festa e qual è l'occasione migliore di festeggiarla qui in questa circostanza. In realtà, sulle prospettive strategiche illustrate in premessa dal generale Serino e dal generale De Cristofori ci avrò poco di aggiungere, eppure sulle prospettive tecnologiche date dal generale Roballa e questo riprova che le lezioni che abbiamo appreso guardano tutte nella stessa direzione, grossomodo, per cui cercherò di dare una prospettiva navale, marittima, a quello che abbiamo visto con una lettura proprio vista dal mare. Innanzitutto, quindi, la guerra. Come ha detto il generale Serino, ci siamo accorti, la prima lezione è che la guerra c'è, è vicina, è un conflitto, è violenta, è lunga, è umana, comporta perdite umane importanti e quindi questa realtà dove ci siamo trovati inizialmente a confrontarci con la guerra. Eravamo abituati a leggere lo scenario, lo spettro operativo come crisi, conflitto, competizione continua, adesso l'attenzione si è spostata molto, quindi dal febbraio del 22 si è spostata molto verso il conflitto. Con delle particolarità, innanzitutto le cose possono anche peggiorare, perché poi abbiamo visto che a ottobre di quest'anno è successa un'altra situazione di crisi, un altro conflitto con Cramato, nel Mediterraneo, quindi c'è proprio nel nostro interesse. E ci sono una serie di riflessi operativi che quindi vanno a interessare quelle che sono le nostre realtà quotidiane. Torneremo poi nel dettaglio su alcuni, sono stati nominati quelli sull'Underwater, quello delle linee di comunicazione marittima, ma quello che c'era prima non è scomparso. Quindi se prima vivevamo in una situazione di continual competition, di competizione continua, di attriti, di situazioni molto delicate che ci vanno a fronteggiare, quelli non sono scomparsi. I traffici illeciti sono rimasti, le attività illecite, io parlo per la parte marittima, via mare, sono rimaste, così come le esigenze immagino di tutte le altre componenti e forze armate. Per cui quello che ha portato questa realizzazione del conflitto conclamato dentro l'Europa ci porta a vedere, ad aggiungere un qualche cosa. Un qualche cosa, su quello che noi già facevamo, ci ha portato una realtà a cui abbiamo dovuto aggiungere con la consapevolezza, come è stato detto, che non è breve. Immaginevamo in poco tempo, in pochi giorni si potesse completare, invece non è così. E quindi la guerra, oltre ad essere violenta, presente, è anche lunga. Come questo ha portato sia, lo analizzeremo da un punto di vista brevemente, sia da un punto di vista di sviluppo dottrinario, c'è stata una proliferazione, quindi questa realizzazione di trovarci in situazioni, a dover fronteggiare situazioni di guerra, ci ha portato a delle riflessioni concettuali, ci ha portato a delle riflessioni in termini operativi, quindi abbiamo cambiato quella che era la nostra normale postura operativa e ci ha portato a delle riflessioni di sviluppo capacitivo, c'è stata una cesura dal passato nello sviluppo capacitivo, abbiamo rivisto in maniera critica a cosa dovevamo rivolgerci. Quindi questa analisi è stata fatta tanto a livello nazionale, ma anche a livello nato in Unione Europea, quindi importanti documenti, concetti strategici, strategi compass, sono stati evoluti e tutti nella direzione di avere una postura più pronta, più reattiva, più concentrata sull'esigenza della difesa. Esigenze che da un punto di vista navale e marittimo ci vedono innanzitutto a dover difendere quelle che sono le nostre principali vulnerabilità e interessi nazionali. In primis il connotato marittimo che ha l'Italia, la sua dipendenza dal mare per gli approvvigionamenti, per l'energia, per la sicurezza, ci ha portato quindi a guardare cosa dobbiamo proteggere, quindi dobbiamo proteggere la nostra resilienza, la nostra capacità di approvvigionamenti, la nostra capacità di avere import ed export e sostenerli e difendere le linee di comunicazione marittima che ci portano alle materie prime, ma soprattutto quelle che poi dall'Italia riescono a portare anche il nostro export nel mondo, alimentare la nostra economia, la nostra capacità quindi di garantire sicurezza, stabilità e anche garanzia della popolazione per i livelli di vita della popolazione nazionale. Quindi intanto da un punto di vista navale, esigenza di difendere quelli che sono i nostri interessi. A questa esigenza si sono contrapposte una serie di sfide e di minacce. Ecco, molte sono state lette e è inutile soffermarsi, la prospettiva è quella. Nel Mediterraneo, quindi un'ottica navale, anche lì abbiamo visto una presenza navale estremamente rinforzata, soprattutto presenza navale russa che durante lo sviluppo del conflitto è arrivata ad avere sia 20, fino a 20 navi, unità navali russe con sommergibili, quindi una presenza navale importante, ma non soltanto russa, perché il bacino del Mediterraneo è diventata quella che è la frontiera, la presenza navale anche di altre emergenti potenze. E vediamo che dal punto di vista navale ho evidenziato l'Algeria e l'Egitto, che hanno uno strumento navale marittimo di prima fascia, anche con capacità di deep strike all'Algeria, per cui strumenti militari navali importanti. Hanno riportato nel Mediterraneo anche la presenza di gruppi navali importanti alleati, da tempo non vedevamo una presenza di gruppi portaeri statunitensi così importante e così permanente come c'è stata dall'inizio del conflitto, tutt'oggi è presente un gruppo portaeri americano anche posizionato in Mediterraneo orientale. Abbiamo visto come l'utilizzo dei droni in tutte le dimensioni, in aria, di superficie, subacquei, costituisca, l'abbiamo stato descritto abbondantemente, un'arma letale, voglio dire anche a buon mercato, e facilmente impiegabile, che ha portato, ha costretto a dover orientare quella che era la postura. Nel Mar Nero abbiamo visto una flotta, è stato evidenziato, praticamente confinata all'interno dei loro bacini e con una libertà di manovra molto costretta, come quella russa, che alla fine è stata fronteggiata prevalentemente dall'uso di mezzi sottili, di unità di droni. Abbiamo visto la minaccia del nucleare, quindi tornare alla minaccia del nucleare, quindi tutta la dimensione illustrata della disinformazione, dell'information warfare, quindi una dimensione estremamente importante. Così come abbiamo visto gli incidenti sull'underwater, che hanno aumentato quella che era la nostra esposizione, una fragilità soprattutto sul settore delle telecomunicazioni, perché i cavi digitali passano nelle dorsali sottomarine, e energetica. Tutti questi fattori, infatti, dal punto di vista underwater, questo ha comportato una grande attenzione. I incidenti che ci sono stati, come è stato evidenziato, non hanno portato a noi questa scoperta, ma l'hanno portata all'opinione pubblica, l'hanno portata ai decisori, perché era da tempo che questa dimensione era nota nella sua importanza, nella sua fragilità e nella sua innovazione. Le linee di comunicazione, anche le linee di comunicazione marittima, le abbiamo viste nella loro importanza. Abbiamo il Mar Nero, che dal punto di vista della libertà di navigazione è compromesso, abbiamo visto l'importanza di quella che è stata la crisi del grano, la crisi dell'acciaio, legata all'impossibilità, quindi di garantire un flusso commerciale importante che potesse continuare attraverso quelle linee di comunicazione. E questi sono fattori ad acuti nel presente. L'abbiamo già vissuti. La pirateria, fino all'inizio degli anni 2012-2013, aveva quasi compromesso la possibilità di accedere nel Mediterraneo attraverso il Mar Rosso. E oggi, con dei riflessi, e qui mi leggo all'accezione che il generale Sirino dava della guerra, che oltre a essere così immediata e virulente, è anche globale e va a interessare i vari settori. La crisi si sta spingendo anche lì. Ieri ci sono stati tre attacchi da parte degli uti a navi mercantili che transitavano all'altezza di Bab al-Mandeb. Questo ha degli impatti. può avere degli impatti, uno dei quali potrebbe essere quello di orientare ad un cambio delle rotte commerciali e un isolamento del Mediterraneo. Quindi l'importanza di salvaguardare le linee di comunicazione marittima, così l'importanza di mantenere e di fronteggiare tutte quelle che sono le sfide e minacce che eravamo abituati a dover contrastare. E quindi non è scomparso tutto il resto di quelli che erano i motivi di attrito con i quali ci confrontavamo precedentemente, la territorializzazione del mare che portava ad una competizione tra stati confinanti, agli atti illeciti, alla difesa di proteggere le linee energetiche. Anzi, le linee energetiche hanno assunto un'importanza più centrale e dominante anche all'interno di quelle che sono le nostre attività di difesa, di protezione e di sicurezza. Così come, come abbiamo visto con il generale Oballa, la parte dell'Indo-Pacifico, tutto quello su cui ci stiamo concentrando, pensavamo che la guerra in Ucraina potesse regionalizzarci, potesse confinarci di più all'interno di quelli che sono i nostri confini, i nostri mediterranei, invece no, nasce tutta un'esigenza di difendere quelli che sono gli interessi marittimi, in questo caso nazionali, ma gli interessi nazionali anche negli altri quadranti, perché la dimensione è comunque è comunque un'accezione ampia e globale. E quindi da qui il nostro schema di manovra che ha portato come Marina ad un grande impegno giornaliero nel Mediterraneo allargato, tradizionalmente indicato con il cerchio che circoscrive il Mediterraneo nei suoi approcci orientali o occidentali, ma anche con una iniziale irregolare presenza verso l'Indo-Pacifico e un legame molto stretto nell'Alleanza Atlantica e una collaborazione molto stretta con la US Navy proprio volta a garantire quella che era intercambiabilità e interscambiabilità, quindi nel gruppo porteri. Le capacità che abbiamo visto poi essere magari i punti di fragilità della flotta russa, quelli di non avere una reale capacità di proiezione, di non avere una reale capacità di proiezione anfibia. Abbiamo visto che hanno stentato a prendere il dominio dello spazio aereo, hanno stentato ad avere operazioni di proiezione anfibia, quindi è lì che stiamo lavorando per avere la supremazia, e questo con gli alleati, con gli Stati Uniti, a garantire la capacità di generare di gruppi portaerei multinazionali con un'ampia capacità di intercambiabilità e di interscambiabilità e così anche nelle forze anfibie, nello sviluppare dei task group di capacità anfibia. Questo non prescinde dal dover mantenere tutti gli impegni, quindi dal dover garantire una presenza navale continua nelle aree di interesse nazionali ed una raccolta delle informazioni che possa consentire di fare un quadro di situazione chiaro, unico e condiviso con gli alleati e con gli altri attori nazionali di cui ne possano aver bisogno, quindi continuare a generare la conoscenza della situazione marittima, continuare a condurre le operazioni di sicurezza marittima a difesa delle linee di comunicazione marittime, continuare a contrastare gli atti illeciti in mare, quindi non sono scomparse queste attività, anzi, sono probabilmente anche con la percezione di pericolo che hanno gli operatori commerciali sono probabilmente aumentate, così come lo sono sicuramente negli aspetti che riguardano la dimensione subacquea, dove proprio per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee subito dopo i primi attentati è nata un'operazione, quella che è l'operazione fondali sicuri, proprio volta con quello che abbiamo, a mettere a sistema quello che abbiamo, che sono sistemi nati per la guerra di contromisure mine, per l'idrografia, per la guerra dei sommergibili, volte a fare un controllo e una protezione a salvaguardia di quelle che sono le condotte, le nostre condotte energetiche e le condotte subacquee, quindi per garantire la sicurezza delle nostre infrastrutture critiche. Farlo, l'abbiamo detto all'inizio, tutto questo non può essere fatto da soli, ma deve essere fatto innanzitutto in un contesto di alleanza, sia con i principali, con le principali aree di riferimento, quindi la Nato e l'Unione Europea, dove si sta sviluppando nella Nato un nuovo modello di forze e per l'Unione Europea evidenza quindi il nuovo strategic compass, quindi comunque un'intenzione di fare di più nel settore della difesa. E sia una cooperazione che va a generare quelle che sono la cooperazione internazionale, quindi non essere da soli, l'importanza, l'abbiamo visto, l'importanza portata avanti anche dal conflitto ucraino è quello di creare degli schieramenti solidi, quindi di avere il supporto di alleati e di marine viche. Questo si fa grazie allo sviluppo di una cooperazione che è internazionale, ma questo si fa anche la dimensione interagenzia interministeriale, nel senso che è uno sforzo che da soli non può essere fatto e deve essere approcciato necessariamente in maniera complensiva. Quindi da un punto di vista di sviluppo capacitivo come si traduce quello che abbiamo visto? Quindi abbiamo visto che servirà e serve e necessario avere uno strumento bilanciato nelle sue componenti, serve sia la parte high-end, quindi quella che possiamo dire gruppi di proiezione, ma deve rimanere necessariamente quella che è la parte che assolve i tradizionali compiti di difesa e sicurezza, ma anzi deve rimanere con una persistenza e con una sostenibilità importante, quindi i numeri sono importanti, è importantissima la tecnologia, il dominio, ma è importantissima la massa, poter garantire la persistenza e poter garantire la permanenza nelle redoperazioni. Così come sono fondamentali le scorte, fondamentali le scorte per poter continuare e così come è fondamentale l'integrazione a livello internazionale, a livello nazionale, a livello multidominio, quindi per poter portare a compimento questa sfida. Con dei nuovi requisiti in alcuni settori, il primo è quello della lotta sommergibile, all'inizio del conflitto la parte più importante è stata quella di poter garantire la presenza di fregate antisomma che potessero garantire la libertà di navigazione per i gruppi portarei. le nostre frame antisommergibili sono rivelate a essere uno strumento poderoso da quel punto di vista ma adesso c'è tutta la parte dello sviluppo della dimensione underwater e della dimensione subacquea che investe vari ambiti da quello della tecnologia a quello del coordinamento e della regolamentazione quindi non vanno visti da sé ma ci vuole una dimensione tecnologica e una dimensione di coordinamento perché si va verso una persistenza nella dimensione subacquea quindi con l'uomo che possa avere un'attività civile e commerciale ma anche militare permanente sott'acqua e quindi servirà una situazione di regolamentazione e di coordinamento tutte cose che con la nascita del polo nazionale subacquea potranno essere indirizzate e sviluppate e in ultimo tutta la dimensione quella che è delle tecnologie disruptive con l'intelligenza artificiale i sistemi di maggiore elevatezza dal punto di vista della tecnologia che in un'ottica futura con lo sguardo al 2035 anche lì guardano le nostre proiezioni di sviluppo capacitivo dovranno portare senza dimenticare il valore dell'uomo e della formazione e l'agganciarsi ai nostri valori militari navali di tradizione la nostra capacità quindi di fare addestramento di creare un prodotto umano che sia in grado di dominare le nuove tecnologie e impiegarle ma rimanere fermo sui valori militari sui valori navali e sulla capacità quindi di lavorare e di dominare un contesto così variegato dove la guerra è tornata ad essere presente nel nostro dibattito ho concluso ringrazio per l'attenzione grazie